Ecco papà Catrame, seduto sul barilotto, con le gambe incrociate alla maniera dei turchi e circondato da tutti i marinai, i quali sbarrano tanto d'occhi e aguzzano per bene gli orecchi, per non perdere una sillaba di quanto egli sta per narrare. L'oceano indiano era così calmo da permettere a tutti, il timoniere eccettuato, di prendere parte a quelle narrazioni interessanti e meravigliose. Un leggero vento, che veniva dalle coste d'Africa, spingeva la nave verso est, a quella terra strana che si chiama India, e dalla quale eravamo ancora lontani, tanto da poter udire tutte le dodici novelle richieste dal nostro amabile capitano. Mastro Catrame, dopo aver reclamato con un gesto e un'occhiata uno scrupoloso silenzio da parte di tutto l'uditorio, tracannò ad un sol fiato un grande bicchiere di vecchio cipro per snebbiarsi il cervello. Spezzò coi lunghi denti gialli da vecchio topo un eccellente sigaro d'avana che gli porgeva il capitano. L'accese con visibile soddisfazione, poi disse con voce grossa e da oltretomba, «Io appartengo a una generazione che è quasi tutta spenta, poiché sono vecchio, vecchio sai, e tutti quelli che m'hanno veduto mozzo riposano in fondo alla grande tazza da molti anni o dentro il ventre di qualche grosso pesce cane». Si fermò quando ebbe detto ciò, guardandoci con malizia, per vedere quale effetto avesse prodotto quella lugubre prefazione che metteva i brividi, poiché aveva un'intonazione strana, paurosa. Poi continuò. «Sono vissuto in un'epoca in cui si credeva alla comparsa dei vascelli fantasmi, agli esorcismi per calmare le tempeste o per sciogliere le grandi trombe marine, alle sirene che venivano a cantare sotto la poppa delle navi attirando gli incauti marinai, agli spiriti del mare, a Nettuno, il re degli abissi oceanici, alla comparsa dei marinai naufragati, ai mostri, alle streghe, alle figlie della spuma. Voi non credete più a tutto ciò, le chiamate leggende paurose, inventate da uomini ubriachi o dalla fantasia tetra dei popoli nordici. Ma vi ingannate. Papà Catrame ha veduto molto, le sirene, i morti, i vascelli fantasma e più ancora. Il vecchio lupo di mare, dopo questo secondo esordio non meno lugubre del primo, girò intorno un altro sguardo. Nessuno fiatava, né batteva ciglio. Eravamo tutti impressionati e i volti dei mozzi e dei giovani marinai erano impalliditi. Solo il capitano si manteneva impassibile e le sue labbra si erano atteggiati ad un sorriso beffardo. Papà Catrame rimase alcuni istanti silenzioso per raccogliere meglio le idee, indi riprese. Non ricordo più l'epoca, poiché sono trascorsi moltissimi anni, ed io ero ancora un ragazzo, non più un muzzo, ma non ancora marinaio. Avevo preso in barco su di una grande fregata a tre ponti, un tipo di nave che non si trova più, poiché tutto è cambiato ora. Cambiate le navi, come le abitudini marinaresche. Si chiamava la Santa Barbara, ma il capitano, uno spregiudicato che non temeva né Dio né il diavolo, che bestemmiava da mane a sera come il leggendario olandese del vascello fantasma, e non credeva in nulla, ne aveva imposto un altro nome. Il Caronte. Brutte storie correvano sul conto di quella fregata, comandata da quel dannato. Un vero dannato, ve lo dice Papà Catrame. Si diceva che tutte le notti, nel fondo della tenebrosa cala, si udivano dei misteriosi fragori e dei gemiti, che nelle corsie si vedevano passare delle ombre bianche che poi scomparivano, e che sulla cima degli alberi appariva sovente una fiammella azzurra. Si diceva ancora che tutte le notti, un marinaio nero, nero, col viso coperto da una lunga barba rossa, entrava nella cabina del capitano per giocare e bere. Chi fosse, io non ve lo saprei dire, ma i marinai del Caronte sussurravano che doveva essere Messer Belzebù. Altri invece asserivano che era uno dei marinai fatti ingiustamente appiccare dal capitano, poiché quell'uomo era crudele e aveva ucciso parecchi dei suoi per un non nulla. Insomma, tutti avevano paura e quando la nave approdava non pochi marinai disertavano, temendo di finirla male in compagnia di quel tizzone d'inferno. Un abate, che un tempo era stato amico del capitano, aveva cercato di persuadere il testardo bestemmiatore a ridare alla nave il primiero nome e a ravvedersi. Ma non era riuscito a nulla. Anzi, aveva avuto in risposta delle minacce e il nome di Caronte era rimasto. Avevamo percorsi parecchi oceani e, cosa davvero strana, nessuna tempesta ci era toccata. Ma i rumori continuavano a bordo della fregata e di notte nessun marinaio avrebbe usato a scendere solo e senza lume in fondo alla cala. Si sarebbe lasciato frustare a sangue col gatto a nove code piuttosto di calarsi in quella nera voragine. Così, però, non la poteva durare. Il bestemmiatore era ormai giudicato. Il vascello dell'olandese dannato doveva aver bisogno di un marinaio. E voi dovete sapere che su quella nave maledetta destinata a navigare in eterno fra una continua tempesta non salgono che gli empi e i crudeli. Avevamo lasciate le coste dell'Africa diretti all'America meridionale, al Callao. Appena lasciato il porto, un marinaio cadde da un pennone e si annegò prima che si avesse avuto il tempo di mettere le imbarcazioni in acqua. Al secondo giorno un pennone cadeva dall'albero di trinchetto e piombava ai piedi del capitano che per poco non rimase ucciso. Al terzo giorno una procellaria venne a svolazzare tre volte sopra la nostra nave e precisamente sopra la cabina del bestemmiatore. La procellaria è l'uccello delle tempeste e porta con sé la sventura. Allora si credeva che fosse l'anima di un marinaio morto e fra l'equipaggio si sussurrò subito che era quella del disgraziato caduto dall'albero e che veniva ad avvertirci di qualche grave sciagura. Un superstizioso terrore aveva invaso tutto l'equipaggio. Un viaggio così male cominciato non doveva finire bene. Qualche cosa di grave stava per accadere, lo si sentiva per istinto ma il capitano non se ne preoccupava anzi pareva che come l'olandese maledetto volesse sfidare il destino e i decreti del cielo. Bestemmiava più del solito maltrattava l'equipaggio più del solito beveva e giocava da mane a sera. Ma ecco che un giorno quando ci trovavamo nei pressi del capo Horn l'aria si fa buia ed il mare monta sulla sconfinata distesa d'acqua calano come un immenso stormo di corvi le tenebre e il vento fischia attraverso l'alberatura in un modo diverso dal solito poiché quei fischi erano stridenti e di tratto in tratto pareva che nel fondo degli abissi marini urlassero dei dannati. Nella stiva si udivano dei fragori paurosi era un rotolare di catene quantunque la catene non ve ne fossero erano vuoti profondi poi gemiti voi direte che erano i puntelli dei ponti i corbetti o il fasciame che scricchiolava no ve lo dice papà catrame un fremito di paura corse per le membra di tutto l'uditorio a quella solenne affermazione del vecchio marinaio i mozzi si strinsero attorno ai marinai e i marinai addosso agli ufficiali e in quel momento si sarebbe udita volare una mosca tanto era profondo il silenzio che regnava sulla nave e si sentivano distinti i palpiti di tutti i cuori gli occhi di ciascuno erano fissi fissi sul mastro che pareva assumere proporzioni gigantesche e che diventava di momento in momento più bianco più diafano e come uno dei paurosi fantasmi che popolavano la cala del caronte verso il tramonto riprese papà catrame con voce cupa ecco apparire in lontananza il capo horn il temuto promontorio dell'america meridionale parve allora che il mare raddoppiasse la sua ira non altrimenti che quello del capo di buona speranza quando l'olandese maledetto vendette l'anima al diavolo per superarlo malgrado la tempesta in cielo guizzavano lampi abbaglianti e il tuono rombava incessantemente facendo tremare perfino gli alberi della nostra nave fra le nuvi si bilava e strideva il vento e le onde si accavallavano con una rabbia tale che non vidi più mai dopo dall'ora quantunque abbia affrontato di poi non so quanti uragani l'equipaggio spaventato smarrito pregava ma il capitano no imprecava orrendamente contro il cielo e invocava satana per aiutarlo a superare il promontorio ed ecco ad un tratto apparire sulle spumeggianti onde un punto nero che si avvicinava a noi con fulmini e rapidità era la procellaria quella stessa che era venuta a svolazzare tre volte sul ponte dopo la morte del marinaio girò ancora tre volte attorno a noi e si fermò sopra il nostro vento dell'albero di mezzana è l'anima del marinaio esclamarono tutti shagura shagura ritorni all'inferno urlò il capitano e puntato un fucile fece fuoco due volte contro l'uccello ma senza colpirlo poiché volò via lentamente fece tre giri ancora attorno al caronte e sparve fra le onde ci allontanammo dal capitano inorriditi esclamando shagura shagura e gli ci rispose con un uragano di imprecazioni orribili il mastro d'equipaggio un vecchio dalla barba bianca che credeva come me al ritorno delle anime scese nella sua cabina prese la croce e la piantò sulla prua del legno quel lato rese più che mai furibondo il bestemmiatore slanciatosi giù dal ponte di comando balzò sul castello di prua e gettò la croce in mare quasi subito un lampo livido balenò fra le nubi seguito da un rombo così spaventevole che cademmo tutti tramortiti sul ponte quando ci rialzammo la giustizia di dio era compiuta l'impio giaceva ai piedi dell'albero maestro senza vita un fulmine l'aveva ucciso allora sulla linea fosca dell'orizzonte vedemmo il mare alzarsi a prodigiosa altezza mentre sulle alte rocce del capo horn lampeggiava poi apparve fra una luce sanguigna un gran vascello tutto nero con le vele pure nere sciolte al vento e guidato da un uomo di statura gigantesca era il vascello dell'olandese maledetto che veniva a reclamare l'anima del bestemmiatore correva ad una velocità spaventevole urtato da tutte le parti da onde mostruose e sulla cima dei suoi alberi brillavano tre fiamme azzurre percorse un tratto dell'orizzonte poi scomparve improvvisamente come se si fosse inabissato voi mi direte che era una nave qualunque ingrandita dalla nostra paura poiché voi non credete al vascello fantasma ma io l'ho visto coi miei occhi e gli occhi di papà catrame erano buoni in quel tempo voi direte che ho creduto di vedere ma io vi affermo che ho veduto bene e nessuno potrà mai farmi credere il contrario volete sapere di più quando l'indomani gettammo in mare il cadavere del bestemmiatore lo vedemmo alzarsi tre volte sopra l'acqua poi le onde se lo presero e lo portarono lontano lontano verso il luogo dove era scomparso il vascello fantasma papà catrame è ancora qui ma il capitano del caronte è a bordo dell'olandese dannato anche lui a navigare eternamente sul mare tempestoso fra il capo horn e quello di buona speranza un silenzio glaciale accolse la sinistra chiusa del vecchio marinaio nessuno fiatava all'infuori del capitano che sorrideva sempre si sarebbe detto che tutti avevano paura di volgersi per la tema di scorgere il vascello maledetto solcare l'orizzonte su tutti i volti si leggeva un superstizioso terrore e i mozzi specialmente erano pallidissimi papà catrame centellinò un altro bicchiere di cipro si mise la bottiglia sotto il braccio ci augurò la buonanotte con tono canzonatorio e discese dal barile per tornare nella cala quando il nostro capitano che non aveva cessato di sorridere durante la intera narrazione gli feccendo di arrestarsi è questa la tua storia gli chiese con voce beffarda si rispose il mastro stupito per quella interrogazione dunque tu credi all'esistenza del vascello fantasma se credo l'ho veduto con i miei propri occhi o hai creduto di vederlo mastro catrame lo guardò con certi occhi che pareva volessero dire ma voi impazzite catrame disse il capitano diventando serio non ti è mai passato per il capo il dubbio di aver veduto male o di essere stato ingannato da qualche fenomeno mai signore rispose il mastro sempre più stupito dimmi allora hai mai udito parlare del miraggio o se meglio ti piace della fata morgana non so cosa volete dire allora ti spiegherò io sul mare come sugli ampi deserti specialmente sul sara per esempio avviene talvolta un fenomeno strano ma spiegabilissimo quando gli strati dell'aria dilatati per il contatto caldo col suolo o con una distesa d'acqua che ha una certa temperatura e daventi una densità differente non si mescolano a quelli soprastanti fanno vedere delle curiosissime illusioni d'ottica di una semplice roccia ti fanno vedere un'isola verdeggiante di un canotto un vascello di un vascello un naviglio mostruoso di un uomo un gigante eccetera ora cosa pensi tu dell'apparizione del preteso olandese che gli scienziati hanno inventato delle belle frottole signore no catrame la frottola ce l'hai data da bere tu o meglio sei stato corbellato da un semplice miraggio il grande vascello che tu hai veduto e che credevi appartenesse all'olandese maledetto il quale se non lo sai non è mai esistito era una nave qualunque che passava all'orizzonte ingrandita e trasformata dalla fata morgana ah catrame come sei credulo il mastro lo guardava trasognato stette parecchi minuti immobile fissando il capitano poi si allontanò a lenti passi e sparve pel boccaporto benché quella spiegazione scientifica fosse giusta fu poco persuasivo pel nostro equipaggio ed io scommetterei che quella notte più di un marinaio non dormì e che gli uomini di guardia aguzzarono più volte gli occhi per vedere se all'orizzonte appariva il legno dell'olandese maledetto